Amiche e amici di Antenna 3, benvenuti all'appuntamento con Ore 13, l'incontro del venerdì ai nastri di partenza anche quest'oggi. Il titolo della puntata, alla quale naturalmente ci auguriamo seguirete con la massima attenzione, è l'opera barocca. Per farlo quest'oggi ho chiesto aiuto a delle amiche, a degli amici che sono con noi per parlarci di questo genere musicale che ahimè non è molto conosciuto, quindi quale occasione migliore se non Ore 13 per parlarne? Lo faccio con il soprano di opera Elena De Simone, buongiorno Elena, con il maestro Carlo Steno Rossi, benvenuto maestro, ed il maestro Sergio Balestracci, benvenuto maestro. Allora prima di entrare a pieno titolo nell'argomento della nostra trasmissione volevo semplicemente in pochi secondi farvi conoscere gli ospiti che ho quest'oggi perché l'argomento secondo me è molto interessante, il fatto che abbiamo deciso di parlarne perché vogliamo dare risonanza a questo genere che come dicevo poco fa ahimè è poco conosciuto, quindi giusto per calibrare il tiro. Elena, parliamo un po' di lei, facciamo subito capire a casa con chi abbiamo a che fare quest'oggi. Allora io sono una cantante lirica, quindi questo è il mio mestiere, mi sono diplomata al Conservatorio Benedetto Marcello in canto lirico e ho anche studiato pianoforte, diplomandomi sempre nello strumento al Conservatorio di Trieste. Da allora ho cercato di portare avanti la passione del canto lirico mettendo in scena delle opere, cantando in diverse produzioni, ecco, e in particolare appunto mi sono dedicata all'opera antica, all'opera barocca, appunto questa opera un po' rara, ecco come lei diceva prima. Opera barocca. Maestro Carlo Steno Rossi, clavicembalista e trascrittore, due ruoli importanti, ci racconti un po' di lei? Io principalmente sono nato come pianista, mi sono diplomato in pianoforte al Conservatorio di Trieste, poi la passione per la musica antica, quindi del 600-700, diciamo mi ha portato a analizzare altri strumenti che sono i precursori del pianoforte, quindi il clavicembalo, l'organo, mi sono diplomato anche in clavicembalo e poi ho iniziato a suonare in orchestre barocche specializzate nell'esecuzione su strumenti antichi. Contestualmente mi occupo anche dell'attività di trascrittore, ovvero il recupero di partiture antiche, fare edizioni moderne, revisionarle e poi metterle in scena. Interessante decisamente, questo è un passaggio che vorrei approfondire con lei in modo particolare. Maestro Sergio Malestracci, mi piace partire con direttore d'orchestra, me lo conceda. Sì, in realtà naturalmente io sono partito in modo diverso, su due binari per così dire, ho fatto degli studi universitari e sono partito suonando un flauto dolce, presente quello strumento da bambini che si suona nelle scuole medie, che non è solo uno strumento da bambini naturalmente. Con questi due elementi congiunti ho condotto tutta la mia vita professionale delle ricerche nel campo della musica antica, facendo concerti, pubblicando edizioni e infine dopo i primi anni di attività anche come direttore sia di coro sia d'orchestra, quando questo è stato possibile. Io ho anche qualche esperienza di direzione di opere barocche, giusto appunto, anche se il filone principale mio è quello della direzione nel campo della musica sacra. Lei è stato insegnante del Conservatorio Pollini di Paso, tra l'altro. Sì, sì, fino a tre anni fa. Adesso si riposa, ascolta meglio la musica, che fa? Avrei pensato di riposarmi, in realtà sono più impegnato di prima perché ho concerti abbastanza spesso, sia come flautista che come direttore, anche io sono impegnato sul fronte della ricerca musicale, quindi trascrizione di musiche, abbiamo anche con Carlo un progetto di istituzione di una casa editrice, abbiamo già moltissimo materiale, quindi insomma... Ne abbiamo ancora di cose da fare. Prima di infilare i pantofoli passeranno un po' di anni ancora. Senta Elena, cerchiamo perlomeno di spiegare quest'oggi, mettiamo un po' di ordine, perché parliamo di un'opera barocca, magari la gente dice, vabbè, cos'è sta cosa? Noi vogliamo mettere ordine, spieghiamo bene di che cosa si tratta. Benissimo, allora innanzitutto possiamo dire che l'opera barocca è l'opera che viene prima dell'opera molto più comunemente conosciuta, quindi di autori come Verdi, Puccini e opere famose quali la Traviata, la Tosca e quant'altro, quindi noi ci occupiamo di tutto quel periodo che viene prima, ecco. E questo periodo è molto grande, si tratta appunto di quasi due secoli, il 6-700, dove molti autori si sono cimentati nel fare questi lavori di opere, di scrittura, anche di sperimentazione, perché Monteverdi, per esempio, che è stato il primo, diciamo, che ha quasi si può dire inventato il melodramma, è stato quello che appunto ha sperimentato nello scrivere anche proprio nell'inventare un genere che poi man mano si è consolidato e che ha preso diverse forme poi nei vari periodi storici. E appunto tra questi ricordiamo anche autori come Vivaldi, il veneziano Vivaldi, oppure Scarlatti o altri, tanti ancora, ecco, che si sono cimentati in questo genere di opera che erano appunto numerosissime, erano tante per un grandissimo arco di tempo appunto e che sono appunto, non voglio dire dimenticate, però poco conosciute. Ecco, questa è la parola. Dimenticate, sì, sì. A proposito di dimenticare o di poco conosciute, dicevo che l'intento di questo appuntamento di ore 13 è quello di farvi conoscere, voi sapete come sempre lo facciamo in punta di piedi, io vorrei approfittare, visto che abbiamo anche dei piccoli contributi filmati quest'oggi, di far vedere delle piccole pillole, se lei è d'accordo Elena, giusto perché cominciamo ad assaporarlo questo genere musicale, per cui se la regia è pronta noi mandiamo il piccolissimo contributo che è tratto da quale opera, Elena? Il Pimpinone, di Albinone. Allora, lo mandiamo in onda e poi ne parliamo in maniera diffusa. Prego. 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 E' il La, è il La che abbiamo detto. Maestro, dico bene, è il La? Ho dato il La? Ho dato la nota? di solito con che nota si parte in questa opera con che nota parte maestro? non lo so, bisogna vedere l'accordo che accordo era senta Elena parliamo di quest'opera intanto che cosa tratta? allora la trama è molto divertente si tratta appunto di questa servetta Vespetta di nome la quale come avete visto prima si lamenta è povera questi stracci che si porta dietro eccetera e sta cantando chi mi vuole sono cameriera fa di tutto pian mi intendo di quel tutto che conviene l'ho detto perché allora lei sta cercando un padrone e lo troverà in pimpinone e questo padrone lo sta cercando perché lei vuole sistemarsi questa è la cosa molto semplice non la avete su casa insomma esattamente è stanca di questa condizione di cameriera è stanca di questa vita e appunto nell'opera iniziale lei è appena stata buttata fuori dalla precedente padrona che non la vuole più e quindi sta cercando appunto padrone e dice io fa di tutto pian di quel tutto che conviene lo dico perché appunto è un'opera su come dire sul perbenismo cioè questa ragazza questa Vespetta riesce poi nel suo intento ecco qui già dico la fine usando appunto queste doti queste virtù se vogliamo chiamarle di perbenismo di gentilezza no? e appunto di di moralità se vogliamo almeno moralità di facciata anche se poi magari non così non è detto appunto che lei pensi esattamente quello che in realtà lascia credere agli altri sono doti di seduzione immagino no? sì doti di seduzione doti di seduzione sì decisamente beh parliamo di donne qui potremmo spendere parole e parole maestro ah certo senta Elena mi perdoni ma lei è molto giovane come mai una persona come lei decide io posso capire che ha ha sentito l'esigenza spontanea naturale questo trasporto per questo genere di musica per questo genere di canto ma a me è sempre piaciuto in realtà quindi da quando ero bambina da quando avevo 5 anni mi sono appassionata di Mozart in realtà da lì poi come dire si è aperto un mondo si sono aperti altri autori i miei autori preferiti sono innanzitutto Mozart e Bach anche se sappiamo che Bach non è famoso proprio per l'esecuzione delle opere non ha scritto opere sì non ha scritto opere però da lì è nato proprio questo mondo eccetera mi sono sempre sentita tratta dal canto dalla recitazione e dall'aspetto anche della messa in scena dello spettacolo cioè la musica è bellissima e la musica messa in scena dello spettacolo è ancora più bella e secondo me in queste opere come anche in quelle dell'ottocento la parte come la parte di recitazione emerge molto è molto presente e quindi in questo senso mi affascina è stata affascinata maestro posso dire che parlando di generi difficili poi trovano difficile riscontro anche nelle produzioni di questi spettacoli di chi crede in una produzione di questo tipo e quindi il terreno ahimè non è proprio tra i più semplici ma da noi in Italia l'opera barocca deve qualche tentativo si è fatto ma deve ancora prendere piede ben diversamente da quello che è successo per esempio in Francia dove il genere è diventato addirittura popolare c'è stato questo musicologo e direttore d'orchestra Cristi si chiama il quale ha rispolverato le antiche opere barocche francesi e il pubblico lo ha seguito e tuttora il genere è molto popolare i festival programmano opere del Settecento e i concerti o anche gli spettacoli in forma scenica sono sempre pieni di gente di giovani da noi questo è ancora tutto molto da fare nel senso che l'ipoteca della musica ottocentesca è forte da noi per esempio il teatro La Fenice mi raccontava un amico che canta Ricordo della Fenice se ricordo bene i numeri ma credo di non sbagliare su 152 rappresentazioni in un anno 52 solo sono di traviata per esempio Ritorno subito su questo argomento perché mi piace particolarmente vorrei approfondirlo in maniera diffusa con lei ci fermiamo qualche istante c'è la prima pausa della nostra trasmissione torniamo subito con ore 13 eccoci nuovamente in studio per riprendere il cammino di ore 13 del venerdì quest'oggi vi parliamo di opera barocca lo facciamo con i nostri protagonisti che vado a salutare nuovamente Elena De Simone soprano di opere liriche ben ritrovata Elena il maestro Carlo Steno Rossi ben ritrovato ed il maestro Sergio Balestracci proprio con lei maestro c'eravamo lasciati prima della pausa pubblicitaria parlando della difficoltà di far conoscere queste opere anzi possiamo dire che il pubblico ahimè non le conosce proprio percentualmente sì ma soprattutto il discorso è questo gli argomenti dell'opera barocca erano argomenti mitologici o storici non so Alessandro Magno Achille Inciro mentre i libretti dell'opera romantica sono rivelano delle trame in cui il pubblico si riconosce molto è cambiato appunto nel passaggio dal 7 all'Ottocento questo forse è uno dei motivi fondamentali e poi bisogna tener conto del fatto che le opere barocca sono moltissime come si potrebbe mettere in scena tutte il più sconosciuto dei compositori antichi se lei va a guardare sull'enciclopedia ha scritto 30, 40, 50 opere per esempio di Vivaldi si conosce per esempio le quattro stagioni tutte le conoscono ma quanti sanno che Vivaldi ha scritto un cinquantino di opere il problema è questo qui fondamentalmente e i nostri teatri fanno forse anche giustamente organizzano stagioni di opere di repertorio cioè quelle ben conosciute che il pubblico ama e che vuole continuare a sentire e a proposito di teatri maestro Rossi dicevamo come tante sono le opere in un tempo scritte e adesso non ce ne sono più tanti erano i teatri che ahimè oggi sono molti ma molti di meno si in effetti dobbiamo ricordare che proprio a Venezia nacque il primo teatro aperto al pubblico che era il San Cassiano nel 1637 da quell'anno successivamente nell'arco di un paio d'anni sorsero subito degli altri i San Giovanni Grisostomo che è l'attuale Malibra ad esempio e successivamente fino alla fine del secolo si arrivò ad avere aperti in città a Venezia e quasi contemporaneamente 16 teatri e nell'arco di di questo periodo fino alla fine del settecento i vari compositori non solo veneziani ma anche napoletani che venivano a Venezia a lavorare scrissero come diceva il maestro Ballestracci per ciascuno si conoscono 40 50 opere perché la cosa da ricordare è che il lato impresariale del teatro consisteva nel fatto che ogni impresario da contratto doveva assolutamente chiedere al compositore un'opera nuova ogni stagione per la scena per la piazza e di conseguenza il pubblico voleva ogni anno ogni stagione avere un'opera qualcosa di nuovo e a proposito di cose nuove lei Elena oltre a cantare si occupa anche della divulgazione uso questo termine poi lei mi corregga se non è quello idoneo di questo genere musicale tanto che ha dato vita ad un'associazione sì l'associazione Lirica Viva appunto che ha sede diciamolo già a San Donato di Piave e a questo scopo cioè diffondere la cultura la conoscenza di questo genere musicale sì di questo genere musicale in particolare appunto di questo genere di opere io volevo agganciarmi al discorso del maestro Balestracci perché è vero quello che giustamente il maestro diceva dell'opera barocca di questi titoli un po' mitologici un po' lontani dal gusto del pubblico però effettivamente quello che appunto mi propongo di fare attraverso questi intermezzi ecco che in realtà non sono proprio opere sono degli intermezzi di cui appunto vediamo questi spezzoni e lo scopo è questo cioè secondo me in queste opere la trama è molto più vicina alle persone il genere comincia a diventare vivo sono delle trame vive delle trame vere se io penso a quest'opera Pimpinone la ragazza ecco che vuole banalmente sistemarsi con il ricco signore è una trama attualissima senza tempo quindi in questo senso anche io io credo molto in questo genere che poi in qualche modo diventa anche il progenitore dell'opera buffa dove l'essere umano viene descritto nella nella sua completezza in una maniera anche molto semplice molto molto veritiera se posso intervenire l'intermezzo dell'opera buffa sono veramente degustabili ai tempi nostri sono interessanti la gente si diverte insomma è l'opera seria il problema io personalmente come musicologo sarei anche ben contento se si producesse delle opere seri ma mi rendo conto che spesso l'opera seria è anacronistica ai tempi nostri intanto perché è molto intricata risponde all'unità d'azione aristotelica si fa fatica a seguire la trama i personaggi sono personaggi lontani da noi stilizzati ci sono dei problemi di questo genere effettivamente il resto si chiamano intermezzi perché venivano proposti tra un atto e l'altro delle opere serie e quindi la gente si divertiva nel venirsi rappresentata nel libretto e c'è da ricordare sempre che Venezia come anche in altri campi fu la prima ad esempio a far stampare obbligatoriamente dei libretti per i soli intermezzi a parte oltre ai libretti dell'opera che andava in scena che andava in scena noi stiamo guardando le ho chiamate piccole pillole in realtà Elena ha corretto subito il tiro giustamente vi abbiamo fatto vedere nella prima parte della trasmissione un piccolissimo frammento del Pimpinone la protagonista come si chiama tra l'altro? Vespetta adesso vediamo a che punto è del suo operato vediamolo nel secondo contributo filmato che abbiamo tu hai ragione e lo stessimo padrone si chiude il sipario Elena quindi vuol dire che è arrivata al raggiungimento del suo obiettivo? non ancora è solo la fine della prima parte no qui lei è riuscita a farsi ingaggiare come cameriera dal padrone e quindi parliamo un po' di numeri Elena quanti siete in scena e quanti orchestrali avete a vostra disposizione per un'opera come questa? allora in scena siamo due cantanti protagonisti e quindi più magari alcune comparse che sono state decise per l'occasione no? cioè da partitura sono due cantanti ecco e gli orchestrali sono pochi perché per questo tipo di opere sono sufficienti senza un clavicembalo un clavicembalo e un quartetto d'archi ecco quindi infatti è piuttosto semplice mettere in scena come diceva il maestro Ballestracci rispetto alle opere più difficili esattamente anche perché l'organico e quindi i mezzi sono minori e per l'orchestra in questo caso basta come da partitura due violini una viola un violoncello e il clavicembalo che fa da basso continuo che è diciamo lo strumento che dà il tappeto armonico a tutta quanta in questo caso l'intermezzo all'opera e quindi sono anche piuttosto semplici da mettere in scena però comunque ci sono costumi ci sono le scene insomma è una bella produzione mi viene da dire Elena? sì è semplice fino a un certo punto immagino sì noi abbiamo fatto l'opera prendendo appunto i costumi il più possibile fedeli all'epoca dico il più possibile perché qualche cosa sfugge sempre anche nella scenografia ci sono delle imperfezioni ecco non è proprio una ricostruzione storica perfetta però appunto abbiamo cercato di essere il più possibile attinenti e ci siamo rivolti all'atelier Pietro Longhi a Venezia dove appunto ci sono degli ottimi costumisti che ci hanno consigliato ecco il cui sarto è anche uno storico del costume e quindi proprio ci diceva come come era d'uopo vestirsi eccetera infatti una piccola minuzia all'inizio io i capelli sciolti dopo io arriverò cambia qualcosa cambierà qualcosa io arriverò con la cuffia perché come ci diceva appunto il costumista il segno di avere i capelli sciolti all'epoca era di povertà quindi piano piano invece lei con la cuffietta comincia ad elevarsi un pochino maestro Balestracci eravamo a Castelfranco Veneto con queste immagini mi pare di aver capito quindi giocavamo in casa è il caso di dire sì si vede bene per esempio che qui non c'era bisogno di grandi scenografie perché l'ambiente stesso è scenografico e veramente bellissimo per questa rappresentazione anzi tante volte si vede anche delle opere per penuria di mezzi eseguite come si dice in forma di oratorio senza scene ma questo è veramente un gran peccato perché in questo modo si toglie proprio un aspetto essenziale di questa di questa produzione o addirittura certe volte si vede quando ci sono dei registi particolarmente fantasiosi realizzare l'azione scenica antica in chiave moderna per esempio io ricordo di aver visto una volta Palazzo Pitti a Firenze una rappresentazione delle Euridice di Peri e lì quando Orfeo va agli Inferi per recuperare la sua Euridice l'ambiente descritto dal regista in quel caso lì era questo inferno qui cioè moderno con spacciatori di droga ladri mascalzoni su motociclette eccetera maestro arrivo sempre a ridosso della pubblicità con lei mi dispiace fermarla ma riprendiamo subito l'argomento ci fermiamo qualche istante torniamo subito dopo con ore 13 ore 13 del venerdì ad Antena 3 quest'oggi si è parla di opera barocca lo facciamo con i nostri protagonisti che saluto nuovamente Elena De Simone soprano di opere liriche il maestro Carlo Steno Rossi ed il maestro Sergio Balestracci ce l'avevamo lasciati poco fa con le immagini del pimpinone queste pillole che oggi vogliamo farvi sentire e vedere soprattutto interpretate dalla nostra Elena Del Simone senta Elena non mi ricordo a che punto avevamo lasciato la nostra protagonista ma lo ricordiamo subito si era appena fatta ingaggiare dal suo padrone e allora vediamo come procede questo ingaggio guardiamo assieme speddi stendi stendi che allegrezza prendi prendi che fortuna che bel tratto e per matto fammi un vezzo un vezzo un vezzo io pupito io pupito non per prezzo no no un bel prezzo no non è prezzo non è prezzo dalla sposa sia poter sia poter dolce sposa dolce sposa sia poter dolce sposa sia poter sia poter tanto brutto tal bellezza non non mi ricordo non non la nessuna no non la nessuna pur quanto è semplice auto e l'amore manda il cuore all'occaro all'occaro in felice grazia Elena mi sembra un po' ostile però ancora il protagonista qui lui o lei lei mi sembra un po' ostile sì 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 senta quanto quanto tempo serve per mettere in piedi un'opera come questa diversi mesi sicuramente diversi mesi non è un lavoro semplice soprattutto se ci si occupa dell'allestimento in maniera globale bisogna innanzitutto scegliere il titolo capire quale può essere il migliore e che cosa si vuole andare appunto a proporre trovare le parti decidere appunto il luogo in questo caso l'abbiamo fatto al teatro accademico di Castelfranco Veneto e ingaggiare appunto gli artisti i quali devono studiare ognuno la sua parte quindi diciamo e poi appunto ci sono tutte le prove musicali di regia e quant'altro e calibrare il tutto maestro Rossi lei si occupa di trascrizioni musicali vogliamo spiegare meglio di cosa si tratta come diceva Elena ora è un lavoro preparatorio all'esecuzione nel senso che una volta identificato un titolo che tante volte è solamente un titolo senza saperne il contenuto è necessario andare alla ricerca della partitura nei casi più fortunati è una partitura autografa altre volte è di copisti dell'epoca e quindi andare in una biblioteca scovare il manoscritto cercare di interpretarlo e leggerlo magari andare in più biblioteche per integrarlo con altre aree che nel frattempo confrontarlo trascriverlo attraverso dei software moderni in notazione moderna farne una edizione quindi una partitura leggibile da un direttore d'orchestra estrarne le parti per i singoli musicisti correggere eventuali errori dei copisti dell'epoca perché le cose venivano fatte anche abbastanza in fretta e una volta avute le parti vengono date ai musicisti i quali si trovano prima a sezioni separatamente poi cominciano le prove vere e proprie per l'esecuzione perché diciamo la differenza di altre partiture dove io posso andare in una messaggeria piuttosto che cercare in internet eccetera questo genere musicale non ha proprio un percorso così facile ci sono alcune opere che sono entrate anche in cartellone diciamo che sono le più famose quelle che che hanno anche un maggior richiamo ma come si diceva prima di un compositore tipo Albinoni che è il compositore del Pimpinone ne ha scritte una cinquantina di opere molta musica è andata perduta altra ce n'è in biblioteche sparse nel veneziano a Venezia stessa alla Marciana piuttosto che al conservatorio Benedetto Marcello e così via e quindi è proprio un lavoro di ricerca assieme anche dei musicologi per interpretare quello che il compositore all'epoca voleva e riproporlo nel 2014 15 Maestro Ballastracci a questo punto io so che forse mi sentono ripetere spesso questa domanda ma chi ve lo fa fare nel senso che è tanto laborioso ma tanto fondamentalmente è la passione per questo repertorio più in generale per quanto vi riguarda dovrei dire la passione per la cosiddetta musica antica la prima volta in cui diresti l'Orfeo di Monteverdi mi ricordo ero veramente commosso per la bellezza di questa musica le scene erano essenziali molto scarne ma la musica era talmente bella il testo talmente espressivo che ripagava anche della povertà delle scene che avevamo a disposizione a quel tempo forse i somminintendenti dei teatri potrebbero fare qualche cosa in questa direzione cioè come è stato fatto in Francia potrebbero rendersi conto che potrebbe diventare anche economicamente interessante potenziare questo filone e tra l'altro l'Italia è il paese della musica per eccellenza l'Europa era piena di direttori d'orchestra maestri compositori costumisti strumentisti che erano accolti a braccio aperto dappertutto perché la formazione italiana era proprio quella non solo della musica ma del teatro direi addirittura in quell'epoca lì le persone più insospettabili erano collegate con questo grande business che era quello teatrale faccio un esempio per tutti per esempio nelle sue memorie Casanova racconta che in un periodo in cui era a corto di denari e non sapeva come fare a sbarcare il lunario per alcuni anni ha suonato il violino nel teatro San Moisé cioè uno di questi teatri che oggi non ci sono più ma per dire che una volta era almeno a Venezia e nell'ambiente veneziano il teatro d'opera era veramente molto sentito anche non solo non solo gli intermezzi dell'opera buffa che per i motivi che abbiamo un pochino detto regola ancora ai tempi nostri ma anche l'opera cosiddetta seria Senta Elena io vorrei sono curioso perché spero di riuscire a capire con il prossimo contributo come va a finire con i Pimpinone che dice lo guardiamo assieme? Guardiamo sei mai più sei mai più che dici che dici sei mai più e la vitri maledetto quando vai mi tricai tocca al demonio calde maledetto maledetto quando vai mi tricai tocca al demonio mi sono schia e mi letto e mi rispetto già lo sa e poi la patta purfa la patta e poi la patta la patta e poi la patta la patta percela la patta e quindi Elena e quindi sembra che il finale parla da solo complimenti tra l'altro io ho saputo una cosa che voglio qui portare a conoscenza il nostro pubblico che lei non si occupa solo di questo genere musicale ma recentemente ha avuto un grande successo in un concerto che ha tenuto Sandona di Piave credo sia proprio recentissimo la vedo un po' di sorpresa me ne parla del lotto proprio pochi giorni fa abbiamo fatto il concerto io il maestro Carlo Rossi al Duomo di Sandona di Piave con proprio un concerto mariano ave marie canti religiosi e anche lì insomma si spazia è stato bello sì c'è stata la chiesa piena e abbiamo avuto penso di poter parlare a nome di entrambi una grande grande soddisfazione l'ho saputo e per questo che l'ho colta di sorpresa senta adesso le faccio una domanda la quale non è tenuta a rispondermi ma mi auguro tanto sia così c'è un'opera c'è un brano c'è un'aria che le piace particolarmente dove si identifica maggiormente dove la sente sua un'opera c'è la mia opera preferita lei mi dice difficile ma io potrei rispondere il Don Giovanni di Mozart è proprio credo che a me piacciono tutte e tre le opere di Mozart le tre le nozze di Figaro Don Giovanni e così fa tutte ecco forse tra le tre Don Giovanni è la migliore poi sono tre donne le protagoniste Donnana Zerlina e Don Elvira a parte le difficoltà vocali che quelle poi sarebbe un discorso pratico quale sceglierei non saprei dirlo perché sono bellissime tutte e tre maestro palestracci lei ha diretto lei ha insegnato i giovani si avvicinano a questo genere musicale ma io ho avuto la fortuna di avere a fare con giovani appassionati e quindi ho conosciuto molti giovani bravi musicalmente preparati colti sia cantanti sia strumentisti che sa oggi magari con un po di musica rock con un po di musica leggera diventa tutto più facile no si dipende dalla formazione che uno ha avuto per esempio vedo con piacere che Elena ha avuto una formazione e un'educazione che l'ha portata verso il bel canto io personalmente per esempio quando ero piccolo ho conosciuto la musica attraverso la passione che mio padre aveva per la lirica e quindi quando ero un bambino mi sono visto Rigoletto traviata trovatore probabilmente non capivo niente o poco ero solamente colpito dal da questo vibratone dei cantanti e non capivo il testo e quindi mi annoiamo perché non capivo le parole però in effetti forse quello che ho visto e sentito è entrato dentro di me e è germogliato poi in seguito. E lei Carlo come si è avvicinato a questo genere di musica? Qual è stato il momento in cui ha capito che quella era la sua strada? Beh io ho iniziato come pianista però il pianoforte moderno romantico prima del pianoforte romantico c'era il fortepiano che è il precursore del pianoforte e quindi la riscoperta della filologia cioè l'esecuzione storicamente determinata ovvero leggere i trattati dell'epoca per capire come all'epoca potesse essere messa in scena un'opera piuttosto che della musica strumentale e andando sempre più indietro il clavicembolo e quindi l'esecuzione in ensemble considerando che a differenza della musica dell'ottocento e del novecento questo tipo di musica spesso nelle partiture troviamo un semplice canovaccio cioè ci sono le parti dei violini delle viole ma è tutto da rimettere in scena anche la parte musicale e quindi c'è la bellezza ogni esecuzione di per sé è diversa una dall'altra a seconda delle varie situazioni che viene riproposta siamo arrivati all'ultima pausa della nostra trasmissione però restate con noi perché abbiamo ancora una piccolissima sorpresa da farvi vedere a tra poco ultima parte dell'appuntamento di ore 13 del venerdì quest'oggi dedicata alla trasmissione ad opera barocca la stiamo facendo conoscere al nostro pubblico quest'oggi grazie alla presenza del soprano elena di simone dei maestri carlo steno rossi e del maestro sergio balestracci vi dicevo poco fa prima della pausa pubblicitaria che abbiamo in servo per voi ancora una piccola sorpresa vogliamo regalarvi ancora del bel canto però voltiamo pagina elena un'altra opera di che cosa si tratta l'uccellatrice di iomelli riusciamo a fare un'introduzione velocissima il più veloce possibile allora librettista carlo goldoni niente meno è molto velocemente si tratta allora una scena un po bucolica mergellina che vive vendendo uccelli appunto cacciando vendendo uccelli viene vista da don narciso nobiluomo che si innamora di lei ma che vuole averla così molto facilmente in realtà mergellina è una delle donne goldoniane quindi molto furba riesce a incastrarlo a metterlo nella sua rete e a farsi donare da lui un anello molto molto costoso mi verrebbe da dire metterlo in gabbia però il gioco di parole è proprio quello vediamo questo contributo filmato m Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non si vede il direttore d'orchestra, lei che la dirige l'orchestra. Non si vede perché non c'era, il maestro con la bacchetta come siamo abituati a vedere noi oggi non esisteva, ma ancora fino alla metà dell'Ottocento avanzato. I cantanti sulla scena guardavano il primo violino che con l'archetto quasi a mo' di bacchetta stava in contatto con i cantanti sulla scena e dirigeva i suoi collaboratori, gli altri strumentisti, di concerto e di intesa soprattutto con i clavicembaristi. Il tempo sta scivolando via piacevolmente, devo dire quest'oggi, del resto con gli argomenti che abbiamo trattato non poteva essere diversamente. Lei si è occupato anche di balletto antico però. Sì, nel 1990 ho diretto Il gridelino che è un balletto di Filippo D'Aliè al Teatro Reggio di Torino, è stato avuto grande successo. Allora, oltre agli intermedi di cui vi ho parlato e oltre all'opera Buffa, anche il balletto antico potrebbe riscuotere molto successo se si programmasse di più da noi, come avviene per esempio in Francia. Continuiamo a ripetere, sì, speriamo che questo avvenga. Speriamo che ci ascolti qualche direttore artistico di qualche teatro. Maestro Rossi, c'è un consiglio che vorrebbe dare a qualche giovane, io ci tengo particolarmente, abbiamo fatto diverse trasmissioni dedicate a loro, un messaggio che vogliamo lanciare, stimolarli in questa strada? La prima cosa è quelle volte che in qualche teatro viene riproposta un'opera barocca, un intermezzo, un balletto, come diceva il maestro Ballestracci, andarla a vedere quest'opera, avvicinarsi ascoltando dei dischi, perché è un mondo estremamente affascinante che non è lontano dal nostro mondo. Io conosco musicisti che interpretano questa musica e contemporaneamente ascoltano musica rock e la eseguono anche, perché dal punto di vista dell'esecutore c'è una grande libertà nell'esecuzione che viene richiesta all'esecutore e quindi è affascinante anche la libertà con la quale ci si avvicina, piuttosto che una lettura rigida che potrebbe essere nell'Ottocento e nel Novecento. Elena, io vorrei però vedere ancora un frammento di secondo, ma purtroppo il tempo sta scivolando via, come dicevo, piacevolmente. Spero ci sia occasione però di riparlarne, di ritrovarci qui e magari, che ne so, parlare anche di un sogno nel cassetto che la IAC ce l'avrà, come tutti gli artisti, no? Sì, sicuramente. Il mio sogno è sicuramente continuare in questa direzione. Per me è importante che l'opera venga divulgata, anche questa che non è così conosciuta. Come diceva il maestro Carlo Rossi, io dico anche sono importanti le trame. Le trame sono attuali, possono aiutare un ragazzo nella sua vita. Io, non so, una volta leggevo Shakespeare e in maniera molto semplice, alcune sue frasi poi le ho riviste nella mia vita. Quindi c'è anche questo insegnamento, è musica e teatro insieme. Speriamo che il messaggio sia arrivato quest'oggi a tutti quanti voi che ci avete seguiti da casa. Ringrazio il maestro Sergio Ballestracci per la sua presenza quest'oggi. Grazie maestro, grazie a Carlo Steno Rossi e ringrazio naturalmente Elena De Simone. Grazie della vostra presenza e a voi per aver seguito il nostro appuntamento. Arrivederci. Grazie a tutti.